Marco Ametovic resterà in carcere. Lo ha deciso nemmeno un'ora fa il GIP di Ascoli Piceno, Annalisa Gian Felice, con l'ennesimo colpo di scena, il terzo, in meno di 24 ore. Il GIP non li ha revocati i domiciliari, semplicemente ha lasciato il Rom nel supercarcere di Marino perché non riesce a trovargli una collocazione idonea. Ieri sera si mormorava di un trasferimento a Camponomadi di Roma, oggi pomeriggio si paventava il ritorno del Rom al Seaside, tanto che un picchetto di giornalisti stazionava sotto in residenza di Porto d'Ascoli. Ma l'attesa è stata vana perché il giovane che guidando Briaco il 23 aprile scorso uccise quattro ragazzi restò in carcere almeno fino a nuova comunicazione, ma non come erroneamente si crede per la strage di Appignano, bensì per la tentata rapina all'ufficio postale di Maltignano. Un turbillon di polemiche, accuse, smentite dichiarazioni che ha investito anche il sindaco di Roma, Walter Veltroni. Il primo cittadino in mattinata ha chiesto rassicurazione ai giudici sul fatto che Metovic non sarebbe stato trasferito a Roma, un comportamento che ha scatenato risentimento del padre del Rom, Maio. Marco voleva andare a Roma anche per curarsi, visto che il giudice lo obbligava anche a frequentare una struttura sanitaria, ha detto il genitore dell'omicida. Una tragedia che continua a riservare colpi di scena, diventate mese dopo mese una fucina di polemiche e battaglie politiche, non solo a carattere locale, ma anche nazionale. Sull'odierna vicenda sono intervenuti infatti anche gli onorevoli Gasparri di Alianza Nazionale, che ha ribadito che il posto di Metovic è in galera, e Gabriella Carlucci, che ha parlato di strabismo della magistratura, sulla strage di Appignano.